Benvenuti in Bunz. Bunz è un marchio tedesco di orologi di lusso, fondato nel 1975 da George Bunz, un orologiaio e gioielliere di Pforzheim. Da subito, Bunz ha attirato l'attenzione per l'utilizzo di materiali insoliti e tagli di pietre preziose fuori dal comune, che creano un effetto sorprendente e originale. La collezione di orologi Bunz comprende diverse linee, che si distinguono per il loro stile e le loro caratteristiche. Tra le più famose si possono citare la collezione Moon Time, la collezione Diamond Time, la collezione Ergo e la collezione Design Time. Queste collezioni sono tra le più richieste del marchio, sia per le loro funzionalità, sia per il loro design semplice e senza tempo. In sintesi, Bunz è un marchio tedesco di orologi di lusso, che grazie all'utilizzo di materiali insoliti e tagli di pietre preziose fuori dal comune, ha creato degli orologi unici, che sono al tempo stesso opere d'arte e strumenti di precisione. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso che si distingua per il suo stile e le sue caratteristiche, gli orologi Bunz sono sicuramente una scelta da considerare. La passione, l'innovazione e la maestria sono alla base della produzione di ogni singolo orologio Bunz.